Il 18 dicembre è un'importante iniziativa targata Orgoglia Maranto, Unione Sportiva Arezzo con il patrocinio del Comune di Arezzo. Sarà una cena di Natale completamente a Maranto? Sì, noi ci auguriamo che questo sia un evento che sia partecipato da più gente possibile. Infatti facciamo l'appello per che tutti intervengano, perché crediamo di aver messo giù un bel programma e per chi sarà presente credo che non mancherà il divertimento e la voglia di stare insieme. Tra parentesi sarà presente tutta la squadra dell'Unione Sportiva Arezzo, tutto lo staff, per cui penso anche è un'occasione per gli sportivi a Maranto per stare a fianco con i propri idoli. Tra l'altro ci sarà una pericena, come è possibile partecipare? Abbiamo visto che ci sarà un contributo di 16 euro, come è possibile prenotarsi? Dunque è possibile prenotarsi presso il tabacchi di piazza, che è quello che solitamente fa anche le prevendite per le partite casalinghe, e inoltre presso la barberia di via Trento Trieste, per cui per ora sono questi due i punti in cui è possibile prenotarsi. Crediamo la prossima settimana comunque di aprire per una sera la nostra sede in cui sarà possibile poi prenotarsi e quindi partecipare all'evento. Una serata alla quale prenderanno parte anche Occhi della Speranza, la Ollus, una serata dedicata anche alla beneficenza con un progetto che sta portando avanti Orgoglia Maranto. Sì, esatto, una serata che sarà condita dalla fine di questa raccolta fondi che abbiamo già promosso per lo sfortunato tifoso della Salernità in Armandino e che impleteremo con una lotteria, una sottoscrizione a premi nella serata stessa, per cui anche l'incasso di questa lotteria sarà devoluto a favore di questo sfortunatissimo bambino. Ricordiamo quindi il posto e quando ci sarà la cena. Allora, la cena ci sarà il 18 dicembre alle ore 20 presso il Teatro Tenda di Arezzo, presso il Centro Commerciale Ipercop.